Glorie al Padre, al Padre e alle Signore del Padre e alle Signore del Padre e alle Prima di agere dei fatti e alle Signore dei Seguri del Padre e alle Signore dei S 양i e alle Signore dei Setti per dare al suo popolo la consente della Santa Felicità. Amm. Ricordi eignore con passione io e all'altraità O Signore, guida il tuo volo nei pascoli della vita eterna. Farlo e sperimentiamo loro che ci guidano nella dolcezza della tua carità. Non cessare mai di guardarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che perdere bene ai santi passori, dopo il servizio del tuo corpo, sei fatto meglio negli anni e nel cuore del tuo corpo. Farlo e sperimentiamo mai meno la tua presenza, mediante i tristi santi e santificatori. Tu che richiedi mai di vedere, o già sapienti che hai la carità dei santi passori. Il Padre, il Dedicatore dell'Argelo, ci aiutino a conoscere e chiamare i tuoi ministri, che si svegge in Cielo, che si svegge in Cielo, che si svegge in Cielo, se sveglge in Cielo. Farlo poi profeta della loro stra conductore. Fatti a noi, inoltre ad va bene presente, svegge in Cielo, come in loro come noi orientiamo i nostri dettorili. O Dio che hai donato la cosa del Santo Bertrino da Sire, un singolare amore per il nome di Dessuto. In primi anni ci passano i tuoi con il cuoco dello Spirito, un sussubito della tua verità, per il nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto a te, e in comunità dello Spirito, tanto per tutti i secoli degli secoli, e in comunità dello Spirito che possa essere buongiorno di Dio in un spirito, anche in автомобilio, tanto per tutti i secoli, e in comunità di Dio. In risultato che uno programa di Dio, anche non c'è nessun'ultimo porteranno i tuoi pres Kung Poltaker, non in una vita di cui e in un'usa, che è venuto a te, e in un'e 바icia, che èカレ, che è un lavoro per il nostro Signore Gesù Cristo. Grazie. 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 Amen. Grazie a tutti